Adesso è arrivato il mio turno di dire qualcosa. Levati tu, è la mia festa! Oh oh, Marta che vuole fare un discorso? Questa sì che è una novità. È vero, avete ragione. La vecchia Marta non avrebbe mai parlato davanti a tutti. Soprattutto per fare un patetico discorso d'addio. Ma da quando vi ho conosciuto sono cambiata. Nella nostra amicizia ci ha cambiati un po' tutti. Insomma, chi l'avrebbe mai detto che Leo sarebbe andato a vivere da solo? O che Jack si sarebbe trasferito in America o che Michelle avrebbe superato la sua ansia. Io dovrei dire qualcosa adesso, vero? Oh mamma! Come non detto. Però è vero, chi si immaginava che Tommy sarebbe diventato famoso? O che Sam avrebbe inventato il sandwich più buono di sempre. E che Trixie sarebbe diventata una di noi. Insomma, quello che volevo dirvi è che... mi mancherete... tantissimo. Ecco, chi l'avrebbe detto che mi avreste fatto piangere? Ehi, le lacrime sono vietate questa sera. È una festa!